Buongiorno e ben ritrovati in primo piano la campagna della TGR sulla sicurezza sul lavoro. Partiamo dai dati che per la Sardegna sono confortanti. Negli ultimi 5 anni gli infortuni sono in calo e così le morti che sono passate da 20 a 13. Lorenzo Manunza. Parlare di isola felice, visto l'argomento, sarebbe fuori luogo. È però da almeno 5 anni che la Sardegna, sul fronte degli infortuni sul lavoro, registra numeri incoraggianti. L'unico dato che cresce, di poco, è quello delle denunce di infortunio, in leggera ripresa dal 2016. Ma se si va ai casi effettivamente accertati dall'Inail, il discorso cambia. Gli infortuni riconosciuti nell'ultimo quinquennio sono gradualmente diminuiti e così le morti bianche. Nel 2012 erano state 20, nel 2017 si sono ridotte a 13. Perfino le malattie professionali, il cui boom aveva destato più di preoccupazione, hanno smesso di crescere. Anzi, dal 2016 al 2017 sono calate del 23%. Stiamo lavorando in una direzione corretta di prevenzione, di attenzione, di sensibilizzazione sia dei datori di lavoro, ma che degli stessi lavoratori, a un lavoro sicuro. Restano nei settori più a rischio le costruzioni e, nei servizi, il commercio. Ma sotto i riflettori c'è anche il comparto della sanità. Colpisce inoltre che, dei 13 infortuni mortali accertati nel 2017, ben 8 siano avvenuti per incidente stradale, un aspetto su cui l'Inail sta cercando di fare la sua parte. A livello nazionale, Inail ha stipulato un accordo con la polizia stradale e con chiunque altro può intervenire, sia in termini di manutenzione e investimenti sulla viabilità, sia in termini di formazione alla guida sicura. La prevenzione, d'altronde, come dimostra il caso delle malattie professionali, resta sempre la strada migliore da scegliere. Di sicurezza sul lavoro parla il telente colonnello Leonardo De Paola, del comando dei carabinieri per la tutela del lavoro nel servizio da Roma di Alessandra Forte. Tutelare il lavoro in tutte le sue forme, reprimendo gli abusi e contrastando l'irregolarità, questi i compiti per i quali fu istituito corregio decreto nel 1937. Tra i più antichi reparti specializzati, oggi con sede nella capitale, il comando carabinieri tutela del lavoro guidato dal colonnello Nicodemo Macri è prente con un nucleo in ogni provincia del paese. 505 uomini formati e qualificati in tutta Italia, pronti a tentare di spezzare la catena della tratta di esseri umani destinati a vittime del caporalato, di contrastare il lavoro nero e imporre all'interno delle aziende la cultura della legalità. I controlli svolti dal reparto speciale vengono pianificati unitamente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ci ulteriori controlli su segnalazione dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e molto spesso anche su indicazione degli altri reparti dei carabinieri che pur non avendo le competenze specifiche in materia di lavoro sanno comunque indicarci quelli che sono i casi da approfondire. Nel 2017 più di 3.000 ispezioni, circa 3.300. A seguito di queste ispezioni sono state denunciate circa 3.700 persone, quindi il dato è abbastanza importante. A seguito di ogni ispezione viene denunciata in media più di una persona. Sono state combinate sanzioni per 8 milioni di euro e sono stati sospesi 39 cantieri. 3.300 controlli in un anno, che idea vi siete fatti? Che cosa c'è da migliorare? È importantissima la formazione, perché se il lavoratore conosce le procedure da adottare, conosce i macchinari che utilizza, conosce i pericoli che va incontro e allora lì può prevenire gli incidenti sul lavoro. Si tratta forse di un incidente...